mister stavolta non è stata una bella partita guardiamo per il bicchiere mezzo pieno della moche da un ulteriore passetto in classifica dove pareggio con Roma City anche se oggi magari ci aspettava qualcosa di più se ci aspettiamo tutti quanti in primissi ragazzi qualcosa di più non è stata commettata una bellissima partita al di là dell'ottima reazione avuta sul sul gol il vantaggio loro però dovevamo partire inizio partita con un atteggiamento diverso con una cattiveria diversa differenza che ha fatto castelfidardo ai nostri confronti poi l'atteggiamento dopo il gol loro è stato un atteggiamento importante atteggiamento positivo abbiamo cercato poi dopo il pareggio di cercare di vincere la partita in modo disordinato non in modo ordinato però sinceramente oggi è stata la prestazione più brutta da inizio campionato dispiace perché i ragazzi non volevano fare questa prestazione ma ci aspettavamo un'altra prestazione un altro risultato però l'importante che ragazzi adesso dobbiamo capire io prima in primis gli errori commessi oggi e ripartire in settimana hai dovuto mandare un segnale anche durante la partita tenendo sempre le tre punte con i vari cambi però cosa che non è funzionato negli ultimi 18 metri siamo stati un po troppo disordinati un po troppo frettolosi dovevamo essere un po più lucidi nel cercare la giocata giusta perché le qualità ci sono e gli spazi secondo me c'erano poi sul 1 a 0 loro mi sono messo diciamo 4 3 1 2 4 3 1 2 uomo contro uomo con loro abbiamo creato tantissime occasioni siamo stati bravi nel cercare nel trovare il pareggio però poi in maniera più ordinata secondo me portavamo portare a casa la vittoria però sono sincero oggi la vittoria non la meritavamo per quello che abbiamo fatto nel complesso grazie a tutti Grazie a tutti.